devo stare qua ah, è vero, scusa devo sussurrare oddio allora, mi presento, quindi va bene ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 a tutti allora io sono Matteo anche se in realtà dovreste conoscermi ho molti follower su un bel po' di social quindi penso che mi conosciate abbastanza tutti quanti abbastanza tutti quanti però non si sa mai io mi presento lo stesso come avrete visto oggi la situazione è un po' più diversa dal solito praticamente cosa è successo ieri io stavo tutto tranquillo a fare le mie cose e il mio agente mi dice che in questo momento stanno andando di moda i video asmr com'è? a a s m r così ok, scusate scusate io ho cercato di fare un po' di ricerche per accumulare un po' di informazioni però ho fatto il possibile quindi si dice a s m r va bene in poche parole cosa sono sti video da quel che ho capito io sono dei video rilassanti dove si fa qualche suono qualche rumorino con qualche oggettino e e dovrebbe rilassare non lo so non lo so oggi appunto sono qua per provare mi hanno chiesto di provare a fare questo video mi hanno chiesto di provare a fare questo video sta andando molto di moda e molto popolare quindi ho detto devo farlo assolutamente allora ho qua sopra sul telefono qualche oggettino da usare non so molto bene come si usino però ci proveremo ci proveremo allora direi iniziamo da uno semplice una piccola agenda allora io ho visto che molta gente faceva tipo così rilassa avevano un po' più di ritmo tipo ecco così adesso assaggia mi piace di più com'è? vi piace? come qua davanti? dai che non mi sembra male è carino è carino c'è alla fine tu non fai niente però è divertente aspetta aspetta come? come? con questa parte? ok allora mi hanno appena detto di fare tipo si sente qualcosa? preferite questo o quello di prima? tanto ho sempre lo stesso oggetto a me piace più di prima a me piace più quello di prima questo qua tanto mi piace questo è molto più bello dai non so che fa un caldo voi non avete caldo? no spero mi si veda bene in telecamera non è la prima volta che sto davanti a una telecamera come avrete visto con tutti i video che faccio però è la prima volta che registro questo tipo di video ma perché bisogna sempre sussurrare? poi non lo so basta dai lo metto via lo metto via ok allora ho trovato questa cosa molto incarina un semplice spruzzino però mi piace tantissimo il rumorino che fa ieri me li sono andati un po' a cercare così magari oggi non sembra un imbranato però ascoltate avete sentito che carino che è avete sentito che carino che è? perché fa un caldo quindi E poi mi vedo un pochino giallo in faccia. E poi guardate un po' io cosa faccio tolgo il tappo e posso spruzzare faccio lontano così non macchio nulla però avete sentito che figo il suono dello spruzzo. Cioè è uno dei miei preferiti io veramente lo amo. E niente il rumorino dell'acqua approvato. Quindi mi raccomando mettete un like e iscrivetevi al canale se questo video vi sta piacendo. E' che se va bene se faccio tante views potrei tornare a farne un altro però non ci abituiamo. Però avete visto che carino tutto il set che mi hanno montato dietro. Mi piace molto. Ancora qualche spruzzo. Basta dai. Ok. Allora il mio telefono qua il mio telefono a parte che sono le 3 e 24. Allora sui miei appunti che ho preso perché ieri me li sono andati a cercare i video. Un altro oggettino che ho visto usavano tantissimo era il pennello. Allora io ho visto che lo facevano sia così. Così. Ma molto 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 di più così. Capito? Faccio un po' un po'. Allora prima così. Vi piace il suono che esce? No a me qua non piace tanto. Provo un po' così. Era più o meno così. Forse un poco più lento. Tipo così. Sto guardando dietro il riflesso per capire se sto facendo una cosa buona oppure no. Tipo di cerchietti. Non lo so. Non sono tanto sicuro. Così dai. A me sembrava fosse più o meno così. E questi qua da quello che ho capito si chiama visual trigger perché tu lo vedi sulla telecamera. Non lo so. Così. Che ne dite? Ci stava. Così. 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 Ho visto che lo facevano sia in verticale che in orizzontale. Quindi. Così. Appunto come se stessi pennellando. Non lo so. Non li ho inventate io ste cose. Non guardatemi male. Qua sotto si sente molto di meno. Cioè qua sopra si. Qua sotto no. Pum. Perché da quello che ho capito. Questo è un microfono apposta fatto per questi video rilassanti. Però ho visto che ce ne sono tantissimi altri. Tipo ho visto che ce n'è uno che ha delle orecchie. Non lo so. E poi ho visto anche che ce n'era uno a forma di testa proprio. che mi faceva paura. Però vabbè. Mamma mia ragazzi. Fa un caldo assurdo. Fa un caldo assurdo. Ma è normale che io sia così giallo in faccia. Non lo so. Ancora poco poco. Ancora poco poco. Ok basta. Allora. Ah. Un'altra cosetta. Ho visto tantissimi video. Cioè non li ho visti. Li ho visti solo scorrendo. Di persone che mangiavano cose. E ho detto. Perché non mangio pure io una cosa. E. Ho preso un pocket coffee. cioè che mi piace più avare. Allora. Pado. Come fa la gente a sentirsi masticare. Strano, non so se mi piaceva, non so se mi piaceva, tanto vabbè i miei capelli ormai se ne sono andati. Un altro rumorino che mi è piaciuto tanto è quello dello scotch. Praticamente prendi un pezzo di scotch e tipo lo leghi, lo attacchi, non so come dire, in modo che è appiccicoso sia da un lato che dall'altro. E praticamente visto che facevano così, vi piace? Poi ho visto tantissimi altri rumorini, però non si possono fare tutti in un video solo. Ecco così era. Ecco. così basta dai ultima cosa che ho deciso di fare oggi allora sapete il rumorino che abbiamo fatto all'inizio quello con l'agenda ho visto che molta gente solo faceva anche sulle unghie tipo così solo che non mi piace viene strano ho visto facevano anche questo questo è più carino dai è un po' più forte pure vabbè dai può bastare così fa un caldo che non riesco a fare nulla allora quindi siamo alla fine di questo video ASMR allora come sempre ragazzi io vi consiglio di iscrivervi al canale qua sotto e di mettere un bel like e di commentare soprattutto perché io leggo tutti i vostri commenti metto il curicino a tutti il video finisce qui ci vediamo poi la prossima settimana con un nuovo video mi raccomando restate sempre attivi sul mio canale e niente come al solito adesso troverete qua il mio video precedente qua una mia playlist e qua il tasto per andare sul mio canale perciò navigate un po' navigate un po' e nulla che devo dire spero che il video questo qua vi sia piaciuto se diventerà popolare magari ne farò un altro e niente un bacio dai buonanotte a sto punto qui è piaciuto